Nel mese della prevenzione del cancro al seno, la LILT punta il dito sull'aumento di questo tumore in Puglia, in Italia. Nella nostra regione sono stati diagnosticati 4.000 nuovi casi di tumore al seno solo nell'ultimo anno. Elaborando questo dato, la LILT accende un faro sulla drammaticità della situazione che si determina dal fatto che non c'è un'adeguata prevenzione. Il presidente della LILT, Francesco Scrittulli, spiega che il 30% dei tumori al seno viene diagnosticato nelle donne al di sotto dei 50 anni. In Italia nel 2017 sono 70.000 nuovi casi di cancro alla mammella e per questo la Lega Italiana Tumori ha deciso di prorogare il mese della prevenzione. Le richieste, le domande da parte delle donne di poter eseguire queste visite senologiche ed eventualmente anche strumentali con l'ecografia e la mammografia sono notevolmente incrementate. Per cui questo lo vediamo anche in tutta Italia, anche nel nord Italia. E allora ho deciso di prolungare questo mese. Credo, anche se dovesse essere nella necessità di farlo l'anno 21, continueremo fino ad esaurimento. Ma la prevenzione dovrebbe essere importante per quanto riguarda il seno, farla a partire dai 16, 17, 18 anni, cioè negli ultimi due anni di scuola media e superiore, istituti tecnici, liceo e quant'altro, insegnare alle nostre ragazze l'autopalpazione, l'autoesame. Ogni mese ci perderanno 5 minuti, ma questo significa mettere la ragazza nelle condizioni di conoscere che un domani potrebbe esserci questa necessità, questa patologia. Così come le ragazze effettuano il pap test subito dopo il primo rapporto sessuale, la stessa cosa deve accadere per il seno. Loro devono sapere che può essere oggetto di una malattia.